Ciao, benvenuti a Cazzeggio Cataviotico Ciao a tutti, benvenuti ad un'altra puntata di Cazzeggio Cataviotico Oggi mi è arrivato il drone giocattolo GP Toys RC F2C Questo è l'unboxing E come potete vedere tutto quanto era descritto nella lista di prodotto è presente C'è il drone, ci sono le eliche con 4 eliche di emergenza C'è il radio telecomando, c'è una memory card da 4GB che è inserita dentro la telecamerina C'è la telecamerina, all'interno ho verificato che c'è la batteria E nel radiocomando chiaramente occorre metterci le 3 pile AAA Che al momento non ho ma che bisogna che compi Il drone non è montato e occorre montarci le eliche a croce AB AB seguendo i lati del manuale Il manuale è molto ben fatto, è in inglese e è veramente completo Montare le eliche del drone è stata una faticaccia tremenda Perché le vitine sono piccine, piccine, ci vuole le mani dei puffi È una cosa incredibile perché le vitine sgusciano via da tutte le parti Una faticaccia, comunque nonostante allegato c'era il suo cacciavitino Alla fine con molta, molta pazienza sono riuscito praticamente a montare le vitine Speriamo non ci sia mai da sostituire le eliche perché sennò sarà una faticaccia tremenda Per il resto il manuale è molto ben fatto, è esaustivo e spiega veramente molto bene Come adoperare il drone e fare quale primo esercizio vuole fare, come funziona e quant'altro Tutte le opzioni del telecomatica